E' più importante che magari la preparazione, anche se non c'è da cullare sugli allori. Terzo round. Non c'è distanza per gli allertari, quindi non c'è possibilità di un attimo di riposo, bisogna sempre stare allerta e attenti. Il pezzo a Spalletti impone un certo ritmo, di conseguenza bisogna adeguarsi, non è che poi far lì a studiare. Tanto è che se giurica la ripresa, di conseguenza è una ripresa terza. Il computo finale dei punti va poi anche in questo caso sui colpi? Portabili a segno, a bersaglio. 10 punti chi vince la ripresa e 9 punti chi la paga. C'è possibilità di pareggio nella ripresa? Sì, sì, però poi non può fidare l'incontro in parità, anche perché poi si dà una preferenza. di letto a destra e un cancio a sinistro precisissimi. sono stati attivati, anche se c'è una certa reazione, però... circolare in testo. Sì, ancora intervento dell'arbitro anche in questo caso per dar tempo e si riprende. Siamo sempre in terzo round, nuovo intervento dell'arbitro per quanto riguarda questo confronto. I due avversari sono ora legati, finisce anche la terza round. Quanto sono importanti? Sì, è diventato problematico questa... Un problematico di tenersi in piedi, perché effettivamente si scivola ancora di più rispetto a prima. Quanto risultano importanti questi momenti per i secondi? Che cosa dicono i secondi nell'angolo? Beh, intanto danno sicurezza all'atleta. Comunque non vedremo mai un secondo di atleti a certi livelli, è verità, perché si... Anzi, comunque si può utilizzare di dare consigli opportuni. Ecco, è più importante dare consigli per il round successivo oppure è più importante cercare di dare sicurezza? Di dare sicurezza soprattutto. Comunque a notare eventualmente gli errori commessi nell'angolo precedente, insomma, nell'angolo appena terminato. Altro motivo di importanza di questo è recuperare il più possibile il fiato, visto che è serrato il confronto ancora di più che in altre squadre. Intanto, centro ring per il quarto round. Subito porta all'angolo l'avversario, cioè non lascia un attimo, non lascia un attimo di trap. Continua colpito di calcio, il primo è andato a segnare al volto. Adesso è la parte esterna della coscia, è un calcio circolare, ancora un calcio circolare. Questi sono tutti i colpi segnali? Sì, sì. Diretto a destra. Continua a calciare basso. Degasciare, 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 degasciare! Chiuso nell'angolo Carriglio, ancora non riesce ad uscire. Comunque è peggio il ritmo, il porto da Suarezco. Degasciare, degasciare, degasciare! Liegare l'avversario è molto avuto dall'epiccidato, anche qui se ne fa un ruolo frequente. Sì, sì. Almeno quando uno è in difficoltà in genere. Il calcio sinistro è il calcio circolare sulla parte esterna della gamba a destra. Su Carlingos. Eccezionale. Continua a portare calci bassi. È un'azione costante quella di Usharefo, proprio non dà assolutamente tempo all'avversario di riprendersi e tantomeno di uscire dall'angolo. Nel momento in cui lo chiude all'angolo fa di tutto per... Continua a calciare basso. Continua anche a calciare basso, sì. E poi i calci arrivano più con la tibia che con il piede. Hai notato? Sanguina è l'atleta americana. Colpo con la tibia più pericoloso di quello colpito. Quarto round concluso nel quale è aumentato il ritmo e anche l'incalzare da parte di Suarefo nei confronti di Carlingos. vediamo in primo piano il tentativo di recuperare da parte di Suarefo e i suggerimenti del secondo. Invece questo è Carlingos. pugni per lui, sangue dal naso, intervento. e comunque sta tenendo abbastanza bene, sta riprendendo bene. è chiaro che l'esperienza di Suarefo è notevole, di conseguenza... Adesso insisterà, insomma, con questo ritmo e probabilmente ha visto l'avversario in difficoltà ed è il momento di aumentare ancora. è già pronto infatti al centro ringo, Suarefo, anche questa è una tattica abbastanza consueta. Aspettare l'avversario al centro ringo. L'intervento dell'arbitro per asciugare il... Molta umidità. Suarefo che non perde un attimo di concentrazione, anche ad incontro fermo, continua a guardare negli occhi l'avversario. Soltanto adesso che l'arbitro ha detto ancora di attendere, si è distratto. Ancora all'angolo Carlingo, adesso cade Suarefo. Nuovamente all'angolo della parte opposta. Il box è molto preciso e continua a colpire l'esterno della coscia. Sono colpi che fiaccano. Eh sì. Nuovo intervento dell'arbitro. E non riesce più a muovere le gambe. Nuovo intervento dell'arbitro che chiama il medico, sanguina dal naso Carlingo. Vediamo qua in primo piano tamponata la ferita dal naso. C'è la possibilità di un'interruzione per una ferita? Sì. Ma in questo caso non credo che l'arbitro intervenga in tal senso. E vedete lo sguardo di Suarefo. Continua ad avanzare. Impone la sua personalità. Subito, subito, pronto, subito l'attacco nuovamente nell'angolo Carlingo. Sono legati. Esce Suarefo. Cominciamo a credere che questo incontro finirà prima del limite. Questo era... Bellissimo. Questo era un... Bellissimo. In parte protetto l'atleta americana. E' uscito bene adesso Cardiglio. E' un po' tenuto lontano Suarefo che ha rallentato un attimo. Forse ha subito il colpo. Continua a calciare in basso. Ed è questa sembra la differenza più rilevante con l'avversario. Cioè mentre l'avversario porta soltanto colpi alti, Suarefo continua a lavorare. Ande' a sgonfiare le ruote della macchina. E poi non riesce a camminare. Sì. Ancora. Alternato. Colpa alla gamba e colpa al fianco. Mentre c'è Carlinglio. Sembra essersi orientato sulla figura e sulla... Un attimino, sì. Si è un attimino diminuito il ritmo. E finisce anche il quinto round. Round forse è più brutto questo per... Carlinglio. L'americana, sì. C'è molta attenzione e molto silenzio tra il pubblico per quanto riguarda questo incontro. Un incontro che viene seguito con attenzione. Effettivamente c'è molta... Molta intensità in questo confronto. Abbiamo sentito come il lavoro di Suarefo, oltre a essere immediato e a colpire ripetutamente l'avversario, lavora anche per il proseguo dell'incontro con i colpi alle gambe che fiaccano e fiaccheranno poi per il resto della gara Carlinglio. E' nuovamente pronto, prima ancora che i secondi escano dal ring Suarefo a centro ring. Sesto round. Solito copione. Suarefo che attacca. Carlinglio all'angolo. Buone combinazioni di braccia di gambe. Sembra già fermo sulle gambe. Nessone difensive più che... Cerca di attenuare gli attacchi di Suarefo. E' che sia qualche reazione. Ha perso probabilmente completamente lucidità e a questo punto molti colpi vanno a segno senza che riesca assolutamente a opporre resistenza. Certo, la sensazione è una difesa. Molto più mobile Suarefo che colpisce anche in uscita, anche quando è sotto pressione dell'avversario. Comunque in uscita continua a colpire. Questo è il colpo scorretto, giusto? Ha tenuto per un istante la gamba. E non è consentito, chiaramente. Ancora all'angolo Carriglio, ancora un colpo in uscita alla coscia. I fini del punteggio sono sempre colpi validi? Sono punti... Sono punti. E si conclude anche il sesto round, ha rallentato un po' nel finale di Suarefo. Suarefo non si segue nemmeno all'angolo ormai. Sì, anche questa è una differenza che si nota. Ha subito seduto Carriglio, mentre Suarefo rimane appoggiato alle corde del ring. Riso sofferente di Carriglio, che cerca di prendere fiato e di recuperare le energie. Molto più concentrato dall'altra parte, Suarefo. Un'isola è il suo territorio. La sua cultura e le sue tradizioni. Abita. Ogni sabato alle ore 21 su Sardegna 1. Le batterie Lider per automobili, camion e moto nascono circa dieci anni fa. Oggi viene ampliata la produzione in un nuovo stabilimento, su una superficie di 2000 metri quadrati, con la nuova gamma di batterie marine. Batterie a trazione leggera, stazionarie e semistazionarie. Lider. Un nome, una garanzia. Fratelli Fronteddu, zona industriale Sastoia, Iglesias. Demauto. La più grande vendita dell'usato in Sardegna. Autoveicoli, fuoristrada, veicoli commerciali. 300 auto disponibili, pagamenti rateali senza conto, permuta usato per usato. Certificato di garanzia sino a 12 mesi. Sede di Iglesias, ingresso da Cagliari su Viale Alberato. Sede di Cagliari, nuova apertura in Viale Marconi numero 229. Demauto, l'usato garantito. Nel centro città di Iglesias, Ipersport di Flavio Serra propone per l'estate 98 un vasto assortimento di articoli per lo sport e la balestra. Cicli, mountain bike e accessori, tutto necessario per la pesca sportiva. Attrezzature subacque professionali delle migliori marche. Per chi acquista una muta da sub completa da 5 mm, un borsone mare sino maggio. Ipersport di Flavio Serra, via Cavour 2224, Iglesias. Siamo pronti intanto per il settimo round. Schueref è già al centro, vediamo. Consueto copione. Impone. Il suo carattere. E subito, primi attacchi di Schueref. Testa bassa di Carrillo. Bella combinazione di traccia. A ritmo più lento, sempre una serie accompagnata di colpi, in uscita sempre con la... Sempre in difesa, Carrillo senza rimettere i colpi. Una difesa passiva ormai. Comunque un ragazzo che ha davanti a sé, insomma, una buona possibilità. Ha solo 24 anni. Prova ad uscire, adesso sono nuovamente al centro ringo, forse è questa la novità rispetto al chiuso. Subito nuovamente. Non riuscendo, non riuscendo a colpirlo alla figura, non riuscendo a colpirlo al volta, comunque è sempre il colpo legale. Problema del tappeto. Sì, scivolano, scivolano ancora e perdono, perdono di qui. Sempre all'angolo, Carrillo. Ancora colpo in uscita di Schueref. Combinazione di Carrillo. Molto colpe dritti dell'americano. Non hanno senz'altro avuto effetto su Schueref. E finisce anche questo settimo round, è diminuito un po' il ritmo rispetto ai round iniziali. Nuovamente all'angolo, stesso copione di prima, Schueref in piedi, appoggiato alle corde, Carrillo seduto, viene asciugato in questo momento il volto, dall'altra parte acqua per Schueref. Dal volto di Carrillo cosa si capisce? Ma, più che dal volto, dal round precedente abbiamo visto un po' di difficoltà in quest'attretto. Secondo out. Fuori i secondi, Schueref al centro, Carrillo che si alza in questo momento. Ancora qualche secondo in più rubato all'inizio del round, probabilmente anche questo fa parte di una tecnica per recuperare qualche secondo in più. Arbitro che attende e via all'ottavo round. Subito all'angolo, Carrillo. Serie combinata ancora di colpi di Schueref. Carrillo non riesce a uscire dall'angolo. Meno rapidi colpi portati in questo momento da... E' azione. Grazie mille di Carrillo. Grazie mille di Carrillo. Scivola a Serotto. Liente di fatto. Liente di fatto. E' subito ribalzato in piedi per dimostrare che questa reazione così improvvisa potrebbe... Questa ripresa sta dimostrando. Dove ha le carattere. Grossa reazione da parte di Carrillo. Grossa reazione da parte di Carrillo. Un po' scivola, un po' subisce colpi Schueref. Sicuramente non si aspettava un ingresso in questo ottavo round da parte dell'avversario così decisa. E' probabilmente anche dal punto di vista psicologico si sta giocando molte carte in questo round che ha rosato. Un atteggiamento anche provocatorio in un paio d'occasioni tra questo calcio in... Speriamo per lui che non abbia esaurito una reazione nervosa. Sprecata troppa energia. Ancora un richiamo non ufficiale da parte dell'arbitro per Carrillo che tiene la gamba di... E finisce anche in questo quavo round. Possiamo dire è il primo forse a favore di Carrillo. E vediamo adesso la situazione all'angolo. Si è cambiato qualcosa, un pochino più vivace sembra... E comunque è sempre in piedi. Carrillo ma sempre in piedi Schueref che assolutamente non modifica il suo atteggiamento e il suo comportamento. Sembra revitalizzato Carrillo almeno dal punto di vista psicologico anche se la fatica si... Si sente. Si vede attraverso i suoi occhi. Più riflessivo Schueref. E si alza prima questa volta Carrillo e sono tutti e due già al centro ring mentre ancora l'arbitro attende per dare il via al nono round. Colpi alle gambe di Schueref che poi in uscita scivola ancora qualche difficoltà dell'equilibrio. Carrillo più fermo sempre chiuso nel suo angolo possiamo dire così. Siamo ritornati al copione consueto. Buon atleta valido. 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 Ancora molto più mobile sulle gambe Schueref che gira intorno a Carrillo che lo segue. Paeso tenta l'attacco Cardiglio tenta di giocarsi forse le ultime possibilità per cercare di recuperare qualche round in suo favore scambio di colpi aperto guardia bassa per entrambi e finisce anche il nono rango sta probabilmente cercando di giocarsi le ultime carte Cardiglio cercando di recuperare qualcosa affronta in maniera più spavalda, più decisa Schoereff che comunque è ancora in vantaggio chiaramente Schoereff in vantaggio è ancora abbastanza tranquillo non porta i segni di nove riprese già passate perlomeno dal viso non sembra non sembra non sembra evidenziare segnali di di calo 40 secondi seconda out sono contento solo se sono contento solo se guardo sempre per la strada 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 questo programma è realizzato in collaborazione con Sustanzu dal 1976 Ranneo, la tana dei predatori della strada Cooperativa Paideia Corima, meccanica e carrozzeria italiana ed estera GLG Ceramiche, rivenditori autorizzato Versace Tilocca Arredamenti Demauto, la più grande vendita dell'usato in Sardegna Autoveicoli, fuoristrada, veicoli commerciali 300 auto disponibili, pagamenti rateali senza conto Permuta usato per usato, certificato di garanzia sino a 12 mesi Sede di Iglesias, ingresso da Cagliari su Viale Alberato Sede di Cagliari, nuova apertura in Viale Marconi numero 229 Demauto, l'usato garantito Nel centro città di Iglesias, Ipersport di Flavio Serra Propone per l'estate 98 un vasto assortimento di articoli per lo sport e la balestra Cicli, mountain bike e accessori Tutto necessario per la pesca sportiva Attrezzature subacque professionali delle migliori marche Per chi acquista una muta da sub completa da 5 mm Un borsone mare sino maggio Ipersport di Flavio Serra Via Cavour 2224 Iglesias Le batterie leader per automobili, camion e moto Nascono circa 10 anni fa Oggi viene ampliata la produzione in un nuovo stabilimento Su una superficie di 2000 metri quadrati Con la nuova gamma di batterie marine Batterie a trazione leggera, stazionarie e semistazionarie Leader, un nome, una garanzia Fratelli Fronteddu, zona industriale Sastoia, Iglesias Bel combattimento E andiamo al decimo round Sempre Schueref che ha l'iniziativa Carriglio nell'angolo Controlla, ma intanto Schueref continua a portare colpi Almeno un colpo intanto alle gambe E comunque non è stato un avversario facile Ancora un colpo pesante Centro ring, momento di attesa Ma Schueref non perde occasione Per colpire almeno Almeno le gambe Sì, sì Pubblico che si scalda Ad ogni minimo acceno di reazione Questo potrebbe Potrebbe caricare ulteriormente Carriglio Colpo a vuoto Anche una reazione un po' disordinata Continua Schueref Colto un'uscita ancora con le gambe Non sono colpi in sufficio comunque Che possono determinare Gli ha reso il colpo che gli ha dato per due volte Sono un po' provocatori in questa cosa Più che altro E comunque ha buone reazioni Ancora centro ring Momento di tentativa ancora Si chiude il decimo Il decimo rato E richiama il pubblico Carriglio Senta il pubblico della sua parte Cerca di trovare aiuto Almeno anche all'esterno del ring Ancora due round Alla fine Un verdetto che salvo Clamolosi colpi di scena E' ormai segnato Per l'uno dei punti Però tutto sonato Dopo i primi round iniziali C'è stata una reazione Che sembrava impossibile Per Carriglio Dopo aver subito in maniera così pesante E forse il discorso che facevamo all'inizio Su chi imposta magari il match Sulla lunga durata Potrebbe riguardare Carriglio Che ha sofferto di più nei primi round Interrompe l'arbitro C'è un problema al Guantone Sì Eh Shureff ancora si avvicina Non aspetta che l'arbitro Ridia nuovamente il via Un po' spinto Un po' ha perso l'equilibrio Esce Shureff